. Ancimangrua salne volkent a tezimbar yerde. Barcheva no redante vonggebin tölle bintar, da dar kena te preis vogge schraiba in da zimbar zun. Ayr kemenza zoina arte di edizion vong preis tölle bintar, un ineršt vong prachan zugno, in da un ter sjala vong Kulturiinstitut Luzern, ista kenged dar preis vong jar 2019. Dar preis hat netla in Sihl zomacha schraim aspebiar, da hato in Sihl zopinta in nuhansigen projekti di zimbar zun drai provinz, da selvo tria, vo Berna, Verona un vo Vicenza. Aspeherta so in der kendarkent di drei varianti vo dar zimbar zun. Seber berda hat gebunt. Vor disim kameundar an borhoze net gehaltet, geschribet vo dar Maria Vittoria Kuniko, von Paolo Martello, vo dar Ivonne Rigoni un von Laura Tondello. Vor disimkameundar hata gebunt di Sabina Katazzo, da zonbat kratur e ha un'abe pabeldar un knofheuser kame Zamburtal. Vor Luzern ojne gian von Fiorinzso von Kastele, dar no lajdar Matteo von Kastelepid niamat hittatsen impitet. Ich bilde Kedan Borbeisgott, Somme Kulturistitut e Bonnuzern, für dieses Gebäin Tende Winter. Der Club Jartandare mit diesem Gebäin gibt eine große Hand zur Alta Nau des Ungarnes in den Hohenbänen und Sieben Kommunen und in den Dresen Neok. Borbeisgott. Partecipo per tenere viva questa iniziativa e perché, come dicevo prima, è lo stimolo per tentare un recupero in extremis del nostro dialetto, più che parlata, dialetto cimbro, che ha come riferimento Giassa. Parlare ci si capisce in qualche maniera va bene, ma quando si scrive una virgola fa differenza. Quindi è importante questo concorso e altri perché allora ci mettiamo lì a tavolino e cominciamo a fare un po' di ordine. Diciamo che l'esperienza è stata fantastica anche se pensavamo di vincere. Infatti praticamente alla fine del testo c'era un grido cosacco che significava urrai, che sarebbe praticamente verso la beatitudine ceste, che era praticamente la storia della parola urra. Non ce l'abbiamo fatta, ce la faremo la prossima volta, sicuramente sarà così. in quanto riguarda il suo figlio di Rodolfo Nicolussi Mots, pittano le loro figli di Luzerni. Da Patrick Nicolussi Principe, il suo figlio di Genia, che era la Chirch di Luzerni, da Mattia Nicolussi Rosi, per il testo di Fontanù, un diastro di Nicolussi Golo, il suo figlio di Moi Herzl che ha detto il suo figlio. La sua storia è stata accaduta di Samantha Nicolussi Rossi e la sua storia di Pizzoizia. La sua storia è stata scoperta di Piter Alessandra Tomaselli, la sua storia è stata scoperta di Tönle Bintar, un professore bidesi. Grazie a tutti, sono contento di essere di nuovo a Luserna con voi per festeggiare l'ottava edizione del Tönle Bintar. È un successo, in qualche modo, essere arrivati già all'ottava edizione. Abbiamo avuto anche questa volta una quindicina di racconti, poesie, lavori fatti dai bambini, dai 7 comuni, dai 13 comuni e da Luserna. Il cimbro ha bisogno di essere parlato, di essere utilizzato nella quotidianità, quella è la vita quotidiana, ma ha bisogno anche di momenti alti. Ha bisogno, come per ogni lingua, appunto c'è bisogno di una letteratura, non sempre scritta, alle volte una letteratura orale, ma tutte le lingue del mondo, anche le più piccole, hanno racconti, hanno fiabe, hanno scritture, hanno appunto fino ad arrivare a grandi poemi. Ecco, noi con questo piccolo premio Tönle Bintar, che si richiama al nome del famosissimo racconto di Tönle, storia di Tönle di Mario Rigoni Stern, abbiamo voluto dare inizio, o continuare per meglio dire, questa tradizione di scrittura in lingua cimbra e invito tutti quanti a partecipare, a scrivere, a formulare poesie, a prendersi tempo per la lingua cimbra. Questo è il mio augurio e auguro a tutti che anche quest'anno ci sia per l'anno prossimo tante pubblicazioni nella nostra lingua. Ormai il concorso è diventato un concorso letterario in senso proprio. Ci sono testi poetici, piccoli racconti che vale la pena di portare fuori dalla comunità cimbra, trasformarli, non trasformarli, dare loro il giusto valore. Non sono solo esercizi di scrittura, sono testi poetici. Quindi dal mio punto di vista sarebbe importante che il concorso prendesse l'attributo letterario in senso proprio. E' importante che la variazione ci sia, non sia considerata negativa, ma è il valore stesso della vitalità della lingua. Quindi il concorso ha fatto moltissimo e penso che continuerà a farlo. D'Arvor Gizzer von Kulturinstitut Luzern, Gianni Zaiga, hatto geredet pittus. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. È un concorso per il concorso del concorso del concorso. Non c'è nessun concorso, come le persone. La cimbra, 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 cimbra e cimbra. Non c'è nessun concorso. La cimbra, 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 cimbra. Cimbra, 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 cimbra. Cimbra, 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 cimbra. Ha00, non cimbra. Quindi cimbra, cimbra, cimbra. Cimbra, cimbra. Non cimbra. Cimbra, cimbra, cimbra. Di quando cimbra, cimbra, cimbra. Cimbra, cimbra. E poi, diciamo, non cimbra. Ce cimbra, cimbra. È molto difficile. Un bel giorno, dopo ci siamo partiti con un Consiglio di Administrazione, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.